ciao a tutti e ben ritrovati per questo nuovo flash unboxing del dottor loomis in questo unboxing parleremo di un film horror italiano del 1980 ovvero il film mangiati vivi diretto da umberto lenzi e in modo particolare parleremo di questa edizione della severin edizione region free che è stata distribuita nel 2018 daremo un'occhiata al comparto extra perché ci sono diversi contenuti extra interessanti all'interno di questa edizione come potete vedere edizione che mi è arrivata con la sovracopertina con la slip diamo un'occhiata anche al retro dell'edizione severin edizione che comprende oltre all'audio italiano c'è anche l'audio inglese e quello spagnolo diamo un'occhiata anche alla marai che c'è all'interno ecco qua perché oltre al film che ora vi mostrerò meglio la copertina anche la copertina reversibile all'interno oltre al blu ray abbiamo anche il cd della colonna sonora che vedete qui con questo artwork come dicevo abbiamo la doppia copertina quindi questa è quella principale spero si veda bene per via del riflesso mentre girando abbiamo quest'altra copertina che sembra più un film osè un film a luci rosse piuttosto che un horror con l'attrice janetta green in primo piano attrice che abbiamo anche visto in alcuni film con lino banfi nelle commedie sexy se non sbaglio era l'onorevole con l'amante sotto il letto c'era anche lei bene vediamo che cosa c'è all'interno del disco blu ray i contenuti speciali praticamente come primo extra abbiamo un'intervista fatta con il regista umberto lenzi questa intervista come durata 16 minuti ed è in lingua italiana poi l'extra più corposo un'intervista una lunghissima intervista uno special sull'attrice meme lai che ha come durata 80 minuti purtroppo questo extra però è completamente in lingua inglese poi abbiamo un'intervista invece di 13 minuti fatta invece con antonello gelenge completamente in lingua italiana in inglese invece abbiamo una doppia intervista fatta a ivan rasinoff e a robert kerman con durata complessiva di 12 minuti infine per chiudere il comparto extra abbiamo un'intervista fatta durante un festival a umberto lenzi per la precisione al fantastic film festival che c'è stato nel 2013 dove vengono fatte diverse domande a lenzi lenzi risponde praticamente in lingua inglese anche se un inglese piuttosto maccaronico quindi si comprende abbastanza facilmente ci sono anche i sottotitoli in inglese questo ha come durata 24 minuti e questo conclude il il comparto extra di questa edizione edizione che io ho acquistato tempo fa su amazon pagato intorno ai 25 euro sinceramente non so se ancora disponibile era venduto da da un venditore privato bene io vi ringrazio di aver seguito questo flash unboxing dedicato a questo film che è stato girato per cavalcare il successo di cannibal holocaust di ruggero deodato e niente noi ci vediamo molto presto per un altro flash unboxing ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti